è andata bene, ci siamo divertiti il posto è bello ecco il falò è stato fantastico la camera è buona la strada è stata bella andava troppo veloce infatti Mike ha una domanda come sono andati i giri in moto? a me è piaciuto tantissimo tantissimo, è la verità ma è che lui che non ci sta no, sono lui che va piano vabbè, mi prendo la responsabilità io andavo troppo veloce Jonathan mi ha fatto la dedica, guarda Gloria al Transalp vediamo se la vediamo ecco, però c'è anche quella maica che è lì questa qua che ti ho fatto fare io sì, perché poi questo qua sarebbe il mio regalo di compleanno che è il primo di agosto senti ma, Luca tutte le volte che una donna regala un librosì al suo uomo forse vuol dire qualcosa ma è chiaro che la segue anche in questa cosa ah, ok, ok ah, tieni amore, prendi il manuale del motovigliatore vuol dire che devi farviaggiare, hai ragione sì, lo legge anziché andare, legge e sta ah, ok poi andò a letto e dici amore ciao, vado torno fra otto anni anzi, se lo rifai quest'altro anno ci dovrebbero essere più donne eh, forse per me ci sarebbero solo donne ma è un vengono è una cosa fattibilissima l'ho fatta io quindi di più, più donne vi ringrazio per ora ciao 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 Grazie a tutti